leggende metropolitane luoghi e misteri ad essi collegati sotto gentile concessione degli amministratori del sito storie inspiegabili che trovate in descrizione in questo video mi accingo a raccontarvi questa storia buon ascolto nell'abbazia di san galgano vicino a siena infilata nel terreno c'è una spada del dodicesimo secolo l'arma è conficcata nella roccia allo stesso modo di quella leggendaria che artù avrebbe estratto per diventare il re d'inghilterra la grande abbazia di san galgano fu costruita nel comune di chiusdino a circa 30 chilometri da siena negli anni tra il 1220 e il 1268 era il periodo storico in cui in italia si fondevano lo stile romanico con quello gotico di importazione francese l'abbazia è stata costruita dai monaci cistercensi ampliando una cappella eretta da san galgano alla fine del dodicesimo secolo ed è considerato oggi uno dei luoghi più suggestivi e prestigiosi esempi di architettura gotico cistercense nel 1300 l'abbazia fu distrutta dalle truppe comandate da giovanni acuto e nel 1400 iniziò un periodo di decadenza irreversibile favorita anche dalla decisione di abolire gli ordini monastici a poca distanza dall'abbazia si trova l'eremo di montesiepi al cui interno si conserva da circa 900 anni la spada di san galgano e la sua straordinaria leggenda galgano guidotti nasce a chiusdino nel 1148 da guido e dionigia la sua era una famiglia nobile legata al bescovo di volterra e fin da giovane galgano è destinato a diventare cavaliere in un periodo di forti fermenti e contese territoriali i giovani nonostante le continue guerre conduceva una vita dissoluta fatta di divertimento e capricci fino a quando non gli apparve in sogno l'arcangelo michele che lo invitò a seguirlo e a diventare cavalieri di dio galgano allora 33enne tornò a chiusdino il giorno di natale del 1180 e una volta raggiunta l'area di montesiepi conficcò la sua spada nella roccia forse per ripudiare il proprio passato forse per la frustrazione di non essere riuscito a costruire una croce con del legno qualunque fosse il motivo galgano lasciò la spada nella roccia formando una croce con l'elsa e la porzione di lama rimasta visibile esattamente nella posizione in cui si trova oggi il monaco morì un anno dopo e fu creato santo nel 1185 per alcuni miracoli compiuti e poco dopo nel luogo della sua sepoltura venne retto l'eremo di montesiepi la figura di san galgano è un punto di svolta nelle vicende della chiesa di quel periodo che parte da san bernardo di chiaravalle un guerriero che guidò le crociate poi passa a galgano un cavaliere che rinuncia alla violenza per arrivare a san francesco nato proprio nell'anno in cui galgano muore ma questa è un'altra storia la leggenda vuole che proprio dalla spada piantata nella roccia del santo senese ebbe origine il mito di escalibur e quello dei cavalieri della tavola rotonda l'unica differenza è che nei racconti del ciclo arturiano la spada viene estratta mentre quella conservata nell'eremo sembra impossibile da sdradicare dal pavimento come sia stato possibile che le due storie così lontane nello spazio partano di fatto da una base comune è la domanda a cui molti tentano di dare una risposta c'è la possibilità che al fine di suscitare interesse la storia di san galgano sia stata leggermente corretta sulla base dei racconti di artù merlino e cavalieri della tavola rotonda cantati dai trovatori del tempo in tutta europa e si potrebbe ipotizzare che la spada sia stata piazzata dai monaci cistercensi che avevano preso possesso della rotonda nel 1218 al contrario qualcuno sostiene che sia stato proprio questo evento della vita di san galgano ad ispirare la saga arturiana perché l'episodio della spada nella roccia entra nel ciclo attorno al 1200 ovvero circa vent'anni dopo la morte del santo perciò non si sa di preciso quanto la figura storica di galgano abbia influenzato i racconti arturiani ma probabilmente lo ha fatto sia come sia la realtà è che nell'eremo dei montesiepi esiste una spada di 900 anni fa conficcata nella pietra e che questa spada si attribuita a san galgano un cavaliere fatto siremita morto nel 1181 e nulla può togliere fascino e magia a questa storia